Benvenuti a Telecru LIS, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra Assemblea Legislativa dell'Umbria e Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria. Questa la sintesi della seduta d'aula di martedì 26 gennaio. Nel corso della seduta dell'Assemblea sono state discusse nove interrogazioni a risposta immediata presentate dai consiglieri regionali per ottenere chiarimenti dagli assessori. Il consigliere Michele Bettarelli, Partito Democratico, ha chiesto di conoscere i motivi della carenza di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario di alcuni ospedali umbri. Il vicepresidente della giunta, Roberto Borroni, ha risposto che si tratta di notizie che non corrispondono a verità. Nessun ospedale ha segnalato carenza di dispositivi di protezione. In alcuni momenti può essersi verificata una copertura più ristretta in relazione alla disponibilità delle ditte. Viene fatto un monitoraggio settimanale per verificarne la disponibilità per tutti i servizi e le unità operative. I consiglieri del Partito Democratico, Simona Meloni e Tommaso Bori, hanno auspicato la piena strutturazione e operatività dell'osservatorio epidemiologico e del Comitato Etico Regionale. Il vicepresidente Morroni ha risposto che il Centro Regionale per la Salute Globale non si configura come osservatorio epidemiologico, avendo un mandato più complesso. Le risorse necessarie, 90.000 euro in due anni, dovranno essere assegnate dalla Regione alla USL numero 2. L'osservatorio epidemiologico regionale non risulta costituito dalla precedente amministrazione regionale che nel 2018 ha attribuito funzioni e attività a Umbria Salute. Il Comitato Etico è operativo e continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo organismo. Il consigliere regionale Fabio Paparelli, Partito Democratico, ha chiesto alla Giunta chiarimenti in merito ai trattamenti ospedalieri dei pazienti oncologici in tempo di Covid-19. L'assessore Roberto Morroni ha risposto che i protocolli per la gestione dei pazienti oncologici durante l'emergenza Covid inviati alle aziende sanitarie sono stati basati sulle circolari del Ministero della Salute, sulle proposte di gestione provenienti dai tavoli tecnici istituiti dallo stesso Ministero e sulle linee guida delle associazioni internazionali. Risulta difficile definire e pesare il contributo del Covid nel definire la mortalità. I consiglieri della Lega Paola Fioroni e Stefano Pastorelli e Daniele Carissimi hanno chiesto quali iniziative la Giunta intende assumere per monitorare l'evolversi complessivo delle procedure relative al Recovery Fund. La Presidente Donatella Tesei ha risposto che l'impostazione del Recovery Fund è centralistica e questo è un grave errore perché se non si coinvolgono i territori questo potrebbe portare a vanificare l'efficacia del piano. Abbiamo inviato 650 progetti per 6,4 miliardi di investimenti. Resta da chiarire il ruolo che le regioni debbono ricoprire in questo percorso. L'Umbria è riuscita ad aggiudicarsi il rifacimento della Ferrovia Centrale Umbra, vera dorsale di collegamento regionale. Il processo partecipativo è già iniziato e vedrà un confronto con tutti. I consiglieri della Lega Paola Fioroni, Stefano Pastorelli e Daniele Carissimi hanno chiesto di essere aggiornati sullo stato di avanzamento della ricostruzione post-sisma 2016. La Presidente Donatella Tesei ha risposto che sono state rimosse le macerie ferme da tre anni. Abbiamo trovato 10 milioni di euro di contributi inutilizzati dal 1997. Sono state presentate ai comuni al 31 dicembre 2020 641 pratiche per la ricostruzione privata. Sono 907 le istanze di concessione all'ufficio speciale ricostruzione, 671 nel secondo semestre con 99,8 milioni di concessioni, pari al 46% del totale dal 2017 a oggi. La consigliera regionale del Partito Democratico, Donatella Porsi, ha chiesto alla Giunta quali sono le misure applicate e quelle impartite dalla Regione ai dirigenti scolastici dei convitti regionali, per i quali non risultano piani specifici di contenimento della diffusione del Covid. L'assessore Paola Agabiti ha spiegato che in Umbria ci sono tre convitti in cui sono registrati 20 casi di positività, 5 ad Assisi, 13 a Todi e 2 a Spoleto. L'indicazione delle misure da adottare per contenere il contagio non rientra nelle competenze di sanità pubblica, ma deve essere contenuta nei protocolli che i convitti devono predisporre. Spetta alle autorità di pubblica sicurezza la verifica delle misure di isolamento e quarantena. Comunque, dal 18 gennaio, gli studenti delle scuole secondarie, anche dei convitti, il personale ata e docente, possono sottoporsi al tampone antigenico rapido nelle farmacie. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, ha chiesto se la Giunta intende incentivare, attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali, la ricerca e lo sviluppo di progetti per il riutilizzo industriale delle biomasse derivanti dall'attività di fitorimedio, nonché sostenere la coltura a scopo non alimentare di tale specie vegetali nelle aree soggette a contaminazione ambientale per risanare i terreni, sviluppare nuove filiere produttive e non sottrarre suolo utile alla produzione alimentare. L'assessore Morroni ha risposto stiamo elaborando la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile in vista della transizione verso l'economia circolare. La regione ha approvato le linee guida sulla bonifica dei siti inquinati. L'anagrafe dei siti inquinati è stata aggiornata a dicembre e comprende 135 siti. L'Agenzia regionale per l'ambiente ha proposto di sperimentare il fitorimedio per la bonifica dei siti inquinati e ha fornito il supporto alla regione in questo senso. Il consigliere Andrea Fora, patto civico per l'Umbria, ha chiesto se la giunta intende attivare un apposito intervento regionale finalizzato a finanziare, a iniziare dagli istituti scolastici, rete di servizi di sostegno psicologico territoriali con il coinvolgimento dell'ordine professionale degli psicologi. L'assessore Paola Agabiti ha risposto che la regione con il supporto dell'ufficio scolastico ha approvato un progetto pilota per la prevenzione e il supporto nelle scuole superiori dei disagi psicologici. Viene previsto il coinvolgimento dei dirigenti scolastici e degli insegnanti per costruire il percorso più utile. Prevista l'attivazione di punti di incontro virtuali, l'attivazione di punti di ascolto psicologico virtuali. L'iniziativa si inserisce in una generale strategia di interventi a favore di giovani e adolescenti. La Giunta è in prima linea per aiutare gli studenti e le loro famiglie, così come per sostenere gli sforzi e l'impegno del personale e degli operatori scolastici in una logica di prevenzione rispetto all'insorgenza del disagio. Il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli, ha chiesto aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori sulla pista ciclabile Spoleto-Assisi nel tratto ricompreso tra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli. L'assessore Enrico Melasecche ha ricordato che la fine agosto 2019, con l'opera ormai conclusa nel suo tratto Rivotorto-Teatro Lyric, sono comparse vistose fessurazioni della superficie pavimentata. Sono emerse difformità di realizzazione. L'impresa esecutrice si è impegnata al rifacimento dei tratti maggiormente fessurati. A metà giugno 2020 sono ripresi i lavori per le riparazioni e per il rifacimento completo. L'intervento non è però risultato idoneo. Nel frattempo si sono aggravate le condizioni della pista anche su tratti non interessati precedentemente dal dissesto. Il completamento dei lavori per il ripristino di tutti i tratti danneggiati dovrebbe richiedere circa un anno. Nel corso della seduta l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità il disegno di legge di iniziativa della Giunta con cui si intende stabilizzare la collaborazione in atto tra Regione Umbria e Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria nell'ambito del servizio di emergenza urgenza. È stata autorizzata una spesa complessiva di 250.000 euro. Via libera anche alla proposta di legge di iniziativa dei componenti dell'ufficio di presidenza di Palazzo Cesaroni che prevede l'autonomia assunzionale dell'Assemblea Legislativa rispetto alla Giunta regionale. L'Aula ha approvato la mozione dei consiglieri Mancini, Rondini, Nicchi, Pastorelli, Fioroni, Carissimi e Peppucci, tutti della Lega, che chiede alla Giunta di Palazzo Donini un impegno a manifestare presso il Parlamento la più ferma opposizione al disegno di legge di iniziativa dei senatori Perigli e Magliorino recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali, in merito all'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile. Verrà invece approfondita in commissione la mozione all'ordine del giorno con cui il consigliere Bianconi, gruppo misto, chiede alla Giunta regionale di impegnarsi allo scopo di arrivare alla candidatura di Lago Trasimeno, cascata delle marmore e piana di Castelluccio di Norcia, nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco. La mozione sarà discussa in commissione. Parere favorevole dell'Aula per la mozione di iniziativa dei consiglieri Marco Squarta e Eleonora Pace, gruppo Fratelli d'Italia, che impegna la Giunta a ricomprendere nella campagna di somministrazione in aggiunta ai medici pubblici del sistema sanitario nazionale convenzionati anche la categoria dei medici veterinari. Attraverso due proposte emendative è stato previsto l'allargamento della platea ai farmacisti, psicologi e medici odontogliatrici, emendamento di Bori, Partito Democratico, e tra i lavoratori dei servizi essenziali anche agli operatori della distribuzione e commercializzazione alimentare e dei servizi primari essenziali. Approvata all'unanimità, la mozione presentata dai consiglieri regionali di minoranza è poi sottoscritta da tutti i gruppi consigliari che chiede l'impegno della Giunta per la sensibilizzazione sul giorno della memoria, sostenendo iniziative pubbliche con le altre istituzioni, con le scuole e le comunità per mantenere vivo il ricordo di quanto avvenuto nei lager, affinché il ricordo non si affievolisca mai. L'Assemblea ha infine approvato all'unanimità la mozione dei consiglieri Bori, Bettarelli, Meloni, Paparelli, Porsi, De Luca, Fora e Bianconi sul bonus edilizio 110%, coordinamento e supporto con gli uffici comunali, valorizzazione del piano di rigenerazione urbana e campagna informativa su sisma bonus e eco bonus. L'atto finale è stato modificato con un emendamento a firma Eleonora Pace, Fratelli d'Italia, Stefano Pastorelli Lega e Paola Agabiti per il gruppo Tesei per favorire un accordo con ATER per la riqualificazione degli edifici regionali. Infine, su proposta di Valerio Mancini, Lega, è stato inserito un supporto ai comuni per la digitalizzazione degli archivi. Ed è tutto per questa edizione di Telecru LIS, il notiziario nella lingua dei segni frutto della collaborazione tra Assemblea Legislativa dell'Umbria e Ente Nazionale SOR di Consiglio Regionale dell'Umbria.